Musica Dunque, credo che sia proprio una giornata storica per la nostra comunità ma anche per l'intera città visto che a quattro passi da qui c'è il tribunale che insiste su una strada molto trafficata noi abbiamo preparato questo evento e credo che anche la pioggia di questa mattina sia una benedizione dal cielo perché è volontà di Dio che qui si cominci a fare la raccolta differenziata un momento che abbiamo preparato con tutti gli abitanti qui del parco c'è una, devo dire, buona volontà affinché tutto questo si possa fare diamo inizio, avviamo questo processo, è un processo da avviare ci saranno sicuramente problemi lungo il percorso ma cercheremo con la buona volontà e con la ragionevolezza di superarli, di affrontarli e di risolverli In Soldoni oggi avverrà che verranno consegnati i cassonetti scala per scala nel rione Michelangelo perché diciamo che chi risiede qui latitava un po' questa mancanza Esattamente, bravo e quindi cosa che non è mai stata fatta chiaramente quindi è l'inizio proprio in assoluto di questo evento, di questo processo noi consiglieremo i contenitori, le persone sono state anche educate, formate perché c'è stato un processo, ripeto, di preparazione e niente, speriamo che tutto vada a buon fine